Pace bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! La parola di questa domenica è un invito. Un re mandò i suoi servi a invitare al banchetto di nozze del figlio. Ecco, il buon Dio manda i suoi servi, i credenti, a invitare a celebrare la comunione con lui e questa comunione, questa relazione di intimità con lui è espressa nei termini di un banchetto di nozze. È gioia, è partecipazione a una festa nuziale di Dio che in Cristo ha sposato la nostra umanità, che viene a unirsi a noi per dare pienezza alla nostra vita. I santi ce lo insegnano. Pensate a Santa Bernadette Subiru, continuamente ammalata, spesso incompresa e anche maltrattata, che arrivò a dire dal letto del mio dolore sono come una regina sul suo trono. Com'è possibile? Perché aveva Gesù nel cuore. Ecco, miei cari, noi abbiamo bisogno di riscoprire ciò che è la comunione con Dio, il seguire Gesù, il vivere una vita cristiana, è gioia, è pienezza, perché Dio è tutto questo. Dobbiamo forse fare, me compreso, me a colpa, per quando tutto ciò non passa dalle nostre parole, dalle nostre liturgie, dai nostri incontri. Vi faccio giusto un paio di esempi. Incontri di catechismo, con lezione frontale di un'ora, tipo scuola, con i bambini spalmati sui banchi stesi dal sonno e morti dalla noia. Oppure a volte noi sacerdoti ci lanciamo in omerie di 30, 40, 50 minuti lineari come un quadro di Pablo Picasso, non si capisce da dove partiamo e dove vogliamo arrivare. Oppure catechesi che potrebbero essere prescritte dal medico come ottime alternative al valium. E poi ci chiediamo perché la gente non venga volentieri, beh ma forse un perché potremmo anche ipotizzarlo, per non parlare di alcuni cristiani così rigidi che al parlare con loro ti si gela il sangue nelle vene. Ecco miei cari, io lo dico così ironicamente, però purtroppo dobbiamo ammetterlo, noi coltiviamo un talento al contrario, far passare come un peso, come una noia, la cosa più bella che ci sia, il Signore. Dovremmo dunque chiedere allo Spirito Santo che ci illumini e disporci ad un sano cambiamento e rinnovamento nel modo di presentare il tesoro del Vangelo. Tornando alla parabola, l'erae manda invitare, ma molti rifiutano, preferendo chi i propri affari, chi andare a lavorare nei campi. Abbiamo qui quel sottile arcaico dubbio seminato nel cuore dell'uomo, quel sospetto nei confronti di Dio e del bene che viene visto come una perdita di tempo, o peggio ancora un inganno, come qualcosa che ti distoglie dalle cose che veramente contano. Cos'è davvero importante nella vita? Una chiamata alla gioia o il proprio lavoro? Celebrare un incontro con il Signore o i propri affari? Ritagliarsi uno spazio per curare ciò che è veramente buono? La cura degli affetti, del rapporto di coppia, di un momento di fraternità in comunità, della cura dei propri figli o curare i propri interessi, vivere come degli isolotti? Chissà quante volte ci sarà capitato nella vita anteporre i doni di Dio a Dio stesso, le cose da fare alla sua chiamata, le cose che passano alla salvezza. Pensiamo in semplicità alla Messa Domenicale, senza andare molto lontano. Quante volte abbiamo invitato qualcuno o ci hanno invitato, ma la domenica ho da fare, devo andare a sistemare l'orto, devo pulire casa, vengono figli, nipoti, pronipoti, non ho tempo. La domanda è, non abbiamo tempo o stiamo sbagliando le priorità? Questo, miei cari, può riguardare anche le relazioni fraterne, familiari, amicali. Mi viene in mente quella storiella simpatica di un bambino che vedeva suo papà sempre impegnato, non aveva mai tempo per stare con lui. E un giorno chiese alla mamma, mamma, ma papà quanto guadagna in un'ora? Eh, molto, 100 euro, lui è uno importante. Un giorno il bambino chiese al papà, papà mi dai 30 euro? E il papà brontolò davanti a questa richiesta, ma la mamma lo convinse e alla fine glieli diede. Dopo un po' di tempo il bambino gliene chiese altri 30 e il papà stupito, non glieli voleva dare, ma anche qui decisiva l'intercessione della mamma. E poi dopo un mese altri 20 e poi altri 20 e infine il bambino va da suo padre e gli dice papà, eccoti 100 euro, la passi un'ora con me? Ecco, miei cari, rinnovo la domanda, è un problema di tempo che manca o è un problema di priorità? Il re non si scoraggia e manda ad invitare altri, poveri, storpi, ciechi, zoppi, costoro chi rappresentano. Se pensiamo che Gesù si sta rivolgendo ai capi religiosi e ai farisei che impersonificano coloro che rifiutano l'invito del re, nei poveri, nei ciechi, negli zoppi possiamo vedere tutti coloro che erano gli esclusi, rappresentano tutte le genti, come a dire tutti vengono invitati a celebrare la gioia dell'alleanza con il Signore. Prefigura dunque la nascita della Chiesa e la sua apertura universale a tutti i popoli. Ma in una chiave più diretta ed esistenziale, costoro chi rappresentano? Gli ultimi, i piccoli, i semplici, coloro nei quali Dio trova spazio perché non hanno altre sicurezze. Quante volte, anche nel nostro caso, Dio trova spazio e finalmente ci apriamo a Lui quando? Quando soffriamo. A volte diciamo non è giusto cercare il Signore solo nella sofferenza. Per carità, è bello cercarlo sempre, in ogni momento avere un rapporto intimo e costante con Lui, ma io aggiungerei meno male che lo cerchiamo almeno nella sofferenza, perché quella diventa un momento dove fare verità. Ci rendiamo conto di non bastare a noi stessi, di aver bisogno di Lui, che da soli un senso a quel dolore non lo diamo, che da soli la forza di attraversare certe situazioni dolorose non l'abbiamo, che da soli la vita eterna non ce la diamo. Ecco, spesso il Signore proprio lì può entrare, perché finalmente trova spazio. In quel caso potremmo dire benedette siano quelle sofferenze che ci aiutano ad aprirci a Lui e a unirci più profondamente a Lui, conformandoci più intimamente al mistero del Cristo crocifisso. Che succede però? Ecco il nostro ultimo passaggio. Tra i commensali che hanno accolto l'invito, il re scorge uno che non ha l'abito nuziale. Il re allora lo fece cacciare fuori, dove sarà pianto estridore di denti, perché molti sono chiamati ma pochi eletti, dice Gesù. Qual è il problema? Da cosa ci vuol mettere in guardia nostro Signore? Cerchiamo di capire. Al tempo di Gesù, quando si era invitati ad una festa di nozze, all'ingresso veniva consegnata una sorta di mantellina, un soprabbito, diciamo così. Era un dono. Qui abbiamo qualcuno che è entrato al banchetto ma non ha accolto questo dono. Dono in greco ha a che fare con la parola grazia. Dunque abbiamo qualcuno che ha accolto sì l'invito ma non ha accolto la grazia. Non si è aperto veramente al Signore? Non si sta lasciando amare? Non si sta lasciando perdonare i propri peccati? Ha un cuore chiuso nelle sue resistenze, nella sua autosufficienza? Ad esempio io posso esserci, posso essere fisicamente presente in chiesa, ma sto lì a scaldare la panca. Non ascolto profondamente quella parola di Dio che mi viene rivolta. Non mi lascio mettere in discussione, non entro profondamente in un cammino di conversione. Ho ridotto tutto all'abitudine, ma così la vita non cambia. Come non cambia il fatto di dirmi credente se poi non prego veramente? In fondo penso di farcela da me, sono un po' autoreferenziale. Non cerco il Signore come l'aria che respiro, non mi apro veramente all'opera della sua grazia. Accogliere l'invito del Signore vuol dire accogliere la sua grazia, ed è questa che cambia il cuore. Senza la grazia non si muove un passo avanti nella vita cristiana, ci ha ricordato il Papa. Se davvero accolgo il Signore non posso rimanere chiuso nei miei vecchi modi di pensare, nelle mie fissazioni inutili, in tutte quelle mie abitudini distorte. Cos'è eseguire Cristo? Camminare verso il cielo, imparare ad amare. Ecco perché ancora più profondamente, miei cari, l'abito rimanda alla veste battesimale, il rivestirsi di Cristo, San Paolo dice dei suoi sentimenti. Uno che entra ma non ha la veste rappresenta uno che non si sta lasciando rivestire di questi sentimenti, che non si sta mettendo in gioco per imparare ad amare da Cristo. Ed è pianto estridore di denti, cioè stai lì, stai con Lui, ma non ne gusti la bellezza. Continua ad essere incastrato nella tua vecchia vita, nelle tue sofferenze, nelle tue magagne. Perché? Perché non ti stai aprendo a Lui. Ecco perché allora San Gregorio Magno diceva, noi tutti che partecipiamo in chiesa e abbiamo fede abbiamo accolto l'invito del Signore, ma non si può dire di avere la veste nuziale se non si custodisce la grazia della carità, quell'amore che Dio ci dona, che siamo chiamati ad accogliere, interiorizzare e far passare attraverso le nostre parole e i nostri gesti, perché possa raggiungere, illuminare, riscaldare la vita di tanti. Cari fratelli e sorelle, la parola di questa domenica ci ricorda che per sperimentare la gioia della salvezza siamo chiamati ad accogliere gli inviti del Signore e vivere secondo l'amore. Ci farà dunque bene chiederci, personalmente e seriamente, ma io come sto corrispondendo agli inviti, alle chiamate che il Signore mi sta rivolgendo? Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!